Da oltre 50 anni, Righetti Dari & Company è un solido punto di riferimento per il territorio. L'autofficina è a disposizione di ogni cliente per revisioni e riparazioni meccaniche, elettriche e cambio gomme, senza tralasciare l'installazione di impianti GPL e relativa assistenza. Con professionalità e competenza, lo staff garantisce lavorazioni puntuali e affidabili su vetture multimarca. L'officina è infatti una realtà imprenditoriale d'avanguardia, sempre attenta alle novità di mercato e capace di rispondere prontamente alle richieste più diversificate. Righetti Dari & Company, la vostra auto in ottime mani.